Esercizio blocco da 2 kg su piano orizzontale. Coefficiente d'attrito statico 0,40, dinamico un po' meno 0,30. Due carrucole a sinistra e appesa una massa da 1 kg. A destra una massa variabile. Per prima cosa c'è da dimostrare che se la massa MB non viene appesa per niente, quindi MB uguale a 0, il sistema scivola verso sinistra. Questa cosa non è scontata perché l'attrito potrebbe tener fermo il sistema. Quindi all'inizio dobbiamo dimostrare che l'attrito non è in grado di tenere fermo questo sistema in assenza della massa MB. Tra poco lo dimostreremo, per adesso prendiamolo per buono. Qui è riportata una semiretta con i valori della massa MB e questa variabile, espressi in kg. Quando la massa MB vale 0, abbiamo visto che il sistema si muove a sinistra perché l'attrito non è in grado di trattenerlo. Adesso cominciamo ad aumentare progressivamente questa massa da 0 fino a 1, 2, 3 g e così via. Si arriverà a un certo valore da scoprire, che chiamiamo MB1, che sarà in grado di trattenere fermo il sistema. Cioè il sistema scivolava verso sinistra. Quando MB raggiunge un certo valore, è in grado di trattenere fermo il sistema che non scivolerà più a sinistra. C'è da trovare questo valore e anticipiamo che sarà 200 g. Continuando ad aumentare la massa MB, quindi 201, 202, 300 g, 400 g e così via, il sistema continua a rimanere fermo finché si arriverà a un valore MB2, che vedremo sarà 1,80 kg, in corrispondenza del quale il sistema inizierà a muoversi verso destra stavolta. E superando questo valore MB2, 1,80 kg, il sistema si muoverà a destra, anche con masse ovviamente maggiori. Perciò in conclusione c'è tutto un intervallo di valori di MB, compresi tra 0,2, 0,20 e 1,80 kg, dove il sistema rimane fermo. Dunque riassumendo, sotto a 0,20 kg il sistema si muove a sinistra, fra 0,20 e 1,80 il sistema rimane fermo, sopra a 1,80 kg la massa MB il sistema si muove a destra. C'è da calcolare MB1 e MB2, questi due valori, dopo aver dimostrato che con MB uguale a 0 il sistema si muove a sinistra.